Diga a Leo! Diga a Leo! Diga a Leo, chiamo! Facciamo un video insieme! Cosa succede, Mara? Aspettiamo. Si è bloccato il film a metà. Si, sta ripartendo un capo. Il problema è qua. E sei bloccato di nuovo? Ritorna la guitarra di Brian. Siamo i soliti fortunati. Sì. 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 Sì.